ciao a tutti ragazzi oggi voglio far vedere cosa è successo nel programma superanalotto uno dei tanti miei programmi allora ho già digitato il precedente che era con il 17 aprile 12 23 eccetera e allora ho dato solo due numeri però è buono perché allora 13 21 13 21 niente 65 niente purtroppo il 21 però cito il 20 che sfiga qui comunque è uscito 17 e 44 17 44 e 55 niente che dire è difficile questo mio programma è uno dei più difficili quindi lo dico anche andando contro un po miei interessi però è così dalle statistiche esce molto poco devo dire difficilissimo superanalotto non so se per colpa mia ma non credo secondo me più colpa loro che colpa mia però vediamo un po le prossime e quindi niente qui è uscito solo due numeri 17 44 come potete vedere qui e basta lo qui cito 21 qual 20 impazienza niente volo farvi vedere questo mio programma devo ancora controllare il 10 lotto anzi quasi quasi lo controllo adesso vediamo un po cosa è uscito il dice lotto allora perché i programmi quindi non riesco a controllarli tutti allora dice lotto vediamo un po digitiamo allora questo è la terza versione controllo le altre allora controllo insieme a voi 2 la precedente 9 10 12 29 30 34 35 36 e 46 poi 49 53 57 57 57 58 64 66 67 70 82 89 invio andiamo a vedere cosa è uscito se è uscito qualcosa sto controllando insieme a voi perché non ho ancora controllata allora 16 preso il 21 il 20 no il 45 sì 41 niente 68 no peccato solo due due su cinque vabbè questa è la terza versione quindi allora il 16 la terza versione che è uscito secondo il 16 e' uscito da un il 16 e il 45 basta peccato il 20 niente il 41 niente il 68 niente 38 69 in questo niente adesso controlliamo gli altri allora questo questa era la seconda o la prima versione non ricordo che ho scritto neanche il titolo allora vi lascio tutti i link sotto comunque allora 2 9 10 12 29 30 34 35 36 46 poi 49 53 57 58 4 6 7 70 82 e 89 invio cosa cito nella l'altra un altro mio programma la 74 niente il 10 sì il 32 niente e 68 niente perché come quello dell'altro il 16 sì e il 4 niente anche qui due vanno però su 6 e 1 2 3 4 5 6 due numeri su 6 vediamo l'altro perché ne ho tre questo controllo insieme a voi perché non l'avevo ancora controllato allora precedente 2 9 10 12 2 9 10 12 29 30 34 35 36 46 46 49 53 57 58 64 66 67 70 82 e 89 invio vediamo un po' allora vediamo cosa ha dato 45 45 sì 63 69 ma che sfida 64 20 niente 41 niente il 22 sì e 13 no cito il 12 anche qui due due numeri per per programma cioè sono contento da una parte ma però volevo fare un po di più pensavo di più e niente ho impazienza due numeri per il programma di 10 lotto sia di questo sia questo qua però su 5 è la terza versione gli altri due invece sono su 6 qua su 6 e qua su 6 e su prena lotto è scitto due numeri che dire niente vi lascio tutti i link sotto dei miei programmi ci sentiamo al prossimo video vi saluto e vi ringrazio mi raccomando iscrivetevi sempre di più cliccate su like se volete fate un po come volete e ci sentiamo al prossimo video ciao a tutti grazie a tutti ciao ciao